Questo video riguarda i migliori 3 mensola per doccia. Il vincitore della qualità è il Rodivor Mensola Doccia. I nostri cestini doccia in acciaio inossidabile sono resistenti e antiruggine e allo stesso tempo resistono all'usura quotidiana. Il nostro cesto doccia è dotato di una struttura in acciaio con finitura argento satinato che conferisce al cestello doccia un aspetto raffinato, semplice ed elegante che può facilmente completare il tuo bagno o anche la tua cucina. Nel set D4 puoi avere una mensola doccia con bordo alto, una mensola doccia con bordo basso e due ganci per rasoio. Il nastro autoadesivo resistente e impermeabile semplifica il metodo di installazione e una persona può installare facilmente lo scaffale senza attrezzi. Nessuna perforazione, nessuna vite e nessun danno alla parete. Con la struttura in acciaio, tutte le dimensioni delle bottiglie possono rimanere pulite e facilmente accessibili sui robusti ripiani in acciaio. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il RCQD Accessori Bagno. Questi scaffali da bagno sono progettati per organizzare il tuo spazio, ideali per riporre shampoo, bagno schiuma, crema, cosmetici e altro ancora. Il portasapone ha un design a scanalatura che riduce la superficie di contatto tra il sapone e il portasapone in acciaio inossidabile per evitare che il sapone si attacchi sempre. Salva ed estendi la vita del sapone. Un potente adesivo viene fornito con la mensola del bagno per garantire la stabilità del supporto doccia. L'adesivo viene utilizzato come alternativa alle viti, quindi basta dire addio a buchi. L'adesivo magico senza tracce rende lo scaffale robusto, quindi il resistente organizer per doccia può contenere oggetti pesanti fino a 15 libre. Non premere con forza lo shampoo quando lo si posiziona sul carrello della doccia. Potrebbe causare un superamento del limite portante. Il design del fondo aperto può drenare e far asciugare rapidamente gli oggetti, mantenere puliti i prodotti da bagno. Il vincitore del premio è il Gricol mensola da bagno. Questo set di mensole per bagno è progettato con una recinzione per evitare che gli oggetti cadano, più sicuri. Due ganci per appendere palline da bagno, eccetera. Il fondo del ripiano della vasca da bagno adotta il ripiano di scarico dell'otturatore. Il design aperto di esso causa un drenaggio rapido, non si accumula acqua e rende il ripiano ventilato, facile da pulire. Il supporto per doccia sospeso può essere regolato per richiesta individuale. Il ripiano angolare in plastica ABS di alta qualità, ecologico, antiruggine e resistente. Dopo la finitura altamente lucida, la superficie morbida è carina per le tue mani. Puoi montare facilmente i nostri ripiani angolari per il bagno, aprire leggermente le clip, scegliere l'altezza adatta del tuo asta doccia, premere la clip dall'alto verso il basso, quindi avvitare la mensola. Maggiore capacità di carico per lo stoccaggio. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.